Musica Dall'inizio della coreografia! E allora pop, 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 si rizzò Vincere ai miei edizioni Salta su, sempre di più Sull'onda del successo del film Tournee Fortunata per High School Musical La riedizione italiana firmata a Compagnia dell'Arancia In scena a Roma al Teatro Brancaccio Fino all'11 gennaio Vivrò quest'anno l'avventura più grandiosa che c'è La più grandiosa che c'è Le avventure dei liceali americani Divisi fra passioni per il basket Primi amori, prove teatrali e scolastiche Piacciano non solo ai coetanei e ai giovanessimi attori Ma inaspettatamente anche ai bambini Mi sento vivo Per le emozioni che danno i bambini in sala E per tutta la forza e l'energia Che riescono a trasmettermi i miei compagni di squadra Di questo spettacolo Che sono qualcosa di incredibile Liberiamo Adesso è un'emozione continua Scoprire anche che i bambini amano te Amano il tuo personaggio Il tuo modo di interpretarlo E la tua persona Quindi voglio dire È veramente bello e divertente Grito nei miei sogni Voro verso i tuoi Baby tu triomferai Se vischi un po' di più Ciao a tutti Venite a trovarci a teatro Grazie a vedere Grazie a tutti Grazie a tutti